Ciao, benvenuti su Cartisia. Oggi vi propongo tre siti per scaricare immagini senza copyright. Guardate, questo è il primo sito. Digitate il nome del sito. Una volta entrati nel sito, troverete un motore di ricerca. Scrivete la parola, per esempio, che volete cercare, vi serve un'immagine. Io ho scritto la parola frullato e voilà, guardate quante immagini, tutte gratuite. Ovviamente troverete anche delle immagini a pagamento premium. Sono delle immagini premium, quindi sarete voi a decidere se utilizzare le immagini gratis oppure le immagini a pagamento perché vi siete innamorati di qualche immagine, per esempio, che vi piace. Questo è il secondo sito. Quest'altro è anche un sito utilissimo perché troverete anche i video senza copyright che sono state messe a disposizione dai creatori di talento. Io qui ho scritto la parola gatto e guardate quante immagini stupende troviamo. Davvero fantastiche. Foto bellissime. Ovviamente faccio i complimenti agli autori di queste foto perché sono stupende. Terzo ed ultimo sito, quest'ultimo anche molto molto utile, ragazzi. Delle immagini carine, anche qui troverete immagini premium a pagamento. Però potete utilizzare tranquillamente solo quelle gratuite. Che dirvi? Io spero che questo video vi sia utile. Mi raccomando, iscrivetevi qui sul mio canale YouTube Cartisia. Attivate la campanella così rimarrete aggiornati su tutti i miei video. E se volete potete seguirmi su Facebook, su Instagram oppure su TikTok come Ricette Golose di Cartisia. Che dirvi ragazzi? Io spero veramente che questo video vi sia utile. Mi raccomando, prendete appunti perché le immagini senza copyright sono utilissime per i nostri lavori, soprattutto per noi YouTuber. Io vi mando un bacione grande grande e ci vediamo al prossimo video tutorial. Ciao e alla prossima!